Da sette anni non sono dove sono finiti i loro soldi, 6,2 milioni di euro totali che avevano affidato alla San Marino Investimenti. Il suo fondatore è stato coinvolto in una vicenda giudiziaria. Le indagini della Banca Centrale San Marinese parlano di una ramificazione in altri stati delle società reconducibili alla SMI. Dal 2012 la società è stata messa in liquidazione coatta, una quarantina alle famiglie che lottano per tornare in possesso dei propri risparmi e che affermano di sentirsi abbandonate dalle istituzioni. Purtroppo invece nei primi sei anni nessuna, e sottolineo nessuna informazione, è stata data ai risparmiatori perché ci veniva comunicato che le indagini erano secretate. Nel 2017 avete presentato una denuncia in tribunale e la situazione è cambiata da allora. Fino ad oggi, a parte il nostro deposito, non è stato dato sapere a noi nulla, non è successo alcunché, infatti questo ci lascia molto perplessi. I risparmiatori coinvolti hanno tutti tra i 60 e i 99 anni, tra questi due sono deceduti senza avere più visto rientrare i guadagni di una vita. Che cosa vi aspettate dalle istituzioni? La politica. Noi chiediamo, come del resto è stato fatto in questi ultimi dieci anni, che come per i risparmiatori delle banche non hanno rimesso nulla dei loro risparmi, nonostante ci sia stata la chiusura di sette banche, così noi vorremmo avere lo stesso identico trattamento.